O cara Vergine Rosalia, con la vostra speciale intercessione liberaste tante volte la nostra patria dai tremendi flagelli dell'ira divina. Intercedete oggi per noi presso il Dio delle misericordie, affinché non riguardi all'enormità dei nostri peccati per punirci, ma ci conceda invece tempo per la penitenza. Le vostre reliquie che sono in mezzo a noi ci assicurino della vostra protezione e ci ottengano da Dio la grazia di glorificarlo insieme con voi nel cielo. Per tutti i secoli dei secoli. Amen.